Il mio compito è abbastanza semplice, quello di presentare un po' il lavoro che è stato fatto con il primo avviso del programma Interreg, come si colloca all'interno del primo avviso il progetto Gestisco e cercare di far capire il lavoro che l'autorità di gestione, che come sapete è incardinata all'interno della giunta regionale di Regione Lombardia, saluto il Sottosegretario, ha fatto in questo periodo, è stato un lavoro abbastanza complesso e intenso, però l'intento mio, quando vado a tutti i vari kick-off day che si stanno concentrando in questo periodo, cioè i giorni in cui appunto i diversi progetti, 69 progetti sono quelli che abbiamo finanziato con il primo bando, in tutta l'area di cooperazione, non solo tutti i Lombardi, sono anche di altre regioni, quando ci chiamano il mio compito o il compito dei miei collaboratori è appunto quello di spiegare qual è il contesto in cui si muove quel determinato progetto. I progetti sono ovviamente dati a attività progettuali che si articolano all'interno di questo territorio, come vedete c'è tutta la Valle d'Aosta, c'è tutta la provincia di Bolzano, c'è il Piemonte, alcune province del Piemonte, Vercelli, Biala, Novara e Berbana, Chiuso, Ossola, poi abbiamo tre cantoni svizzeri, il cantone Vallese, il cantone Ticino e il cantone dei Grigioni, e poi abbiamo ovviamente le quattro province lombarde, che sono ovviamente la provincia di Como, la provincia di Varese, la provincia di Lecco e la provincia di Sondrio. Un dettaglio fondamentale, i soldi che l'Unione Europea e il Palazzo Chigi, il governo italiano, come cofinanziamento, 85% dei soldi dati a voi arrivano dall'Unione Europea, il 15% all'incirca arrivano da Roma, presuppongono una cosa, presuppongono sempre che ogni singolo progetto abbia due partner, uno obbligatoriamente italiano, collocato in una di quest'area qui, azzurro chiaro, e uno svizzero, collocato quindi in uno dei tre cantoni indicati con il colore blu scuro. E questo determina anche il fatto che questi progetti siano per l'appunto chiamati trasfrontalieri. Sono fra l'altro i programmi trasfrontalieri, di cui Italia-Svizzera è uno dei circa 72 che ce ne sono oggi in Europa, finanziati dall'Unione Europea, danno di fatto per gli enti pubblici o per gli organismi pubblici in generale un finanziamento al 100% a fondo perduto. Ed è, come dire, voi lo sapete benissimo, perché altrimenti non si spiegherebbe tutto lo sforzo che avete fatto per conseguire il risultato di vincere la colla. I soldi sono parecchi, sono 158.435.000 euro complessivamente, di cui 117.9-118.000 di parte europea e invece 42.160.000 di parte svizzera, di parte elvetica. Il primo avviso ha avuto una gestazione abbastanza lunga, abbastanza articolata. Abbiamo fatto tre passaggi. Il primo passaggio è stato quello di raccogliere le manifestazioni di interesse sul territorio. L'abbiamo fatto nel 2016 e abbiamo ricevuto 272 manifestazioni di interesse, che è un numero decisamente significativo. Subito dopo abbiamo fatto, come proposto da tutte le amministrazioni partner, che ho indicato prima, abbiamo fatto un percorso di formazione, sette laboratori formativi, più due tenuti direttamente in Regione Lombardia-Milano, in cui abbiamo spiegato come costruire la partnership, come costruire i progetti, come cercare di avanzare delle proposte progettuali che avessero delle serie chance per vincere la call, per ottenere il finanziamento. Il risultato l'abbiamo in effetti ottenuto nel terzo step. Abbiamo ottenuto complessivamente 170 proposte progettuali sui cinque assi di riferimento. 22 progetti riguardavano progetti con una durata massima di 18 mesi, i restanti, cioè i 148, erano proposte progettuali che prevedevano una durata per le loro attività, compresa fra i 18 mesi e un giorno, e i 36 mesi, durata massima. Ora, noi abbiamo messo a bando l'80% delle risorse italiane e svizzere. Cioè 86 milioni parte Italia, 17 milioni erotti, parte franchi svizzeri, parte svizzera. Se noi avessimo dovuto o potuto finanziare tutte le richieste di questi 170 progetti presentati, noi avremmo dovuto avere a disposizione la cifra che trovate indicata qui in basso a destra, 212 milioni di euro per la parte italiana e 56 milioni di franchi per la parte svizzera, di contributo. Quindi avremmo dovuto avere esattamente quasi tre volte, insomma, più del doppio per quanto riguarda le risorse messe a bando e decisamente un 60-70 milioni di euro in più rispetto alla dotazione complessiva del programma. Questo per dire il successo che ha avuto il primo avviso in termini di numeri e di quantità. In termini anche di beneficiari, siamo uno dei programmi che ha il maggior numero di beneficiari per quanto riguarda le singole proposte di bando. Abbiamo complessivamente 461 beneficiari. Beneficiari, magari può essere una parola che detta così magari è abbastanza bonaria, con una sua interpretazione ottimistica. In realtà è certamente ottimistica, positiva, però indica concretamente degli enti, dei corpi pubblici oppure dei privati, delle aziende che ricevono anche solo un centesimo, anche di franco o di euro, per realizzare una qualche attività all'interno dei progetti. Quindi sono persone, enti, aziende che realizzano almeno un'attività all'interno del nostro programma. Come vedete c'è una concentrazione, c'è ovviamente una presenza di partner molto più alta nella parte europea, nella parte italiana, che non in quella svizzera. La ragione è dovuta anche, direi soprattutto, al fatto che le modalità di finanziamento della parte italiana e della parte svizzera sono leggermente diverse. Lo dico perché è sempre opportuno dirlo. La parte italiana finanzia in toto, come dicevo prima, quanto viene richiesto e richiede solo, a titolo, così, volontario, un eventuale autofinanziamento, cioè un'aggiunta di risorse da parte delle persone che partecipano al bando e presentano il progetto. In Svizzera funziona in modo molto diverso. La Svizzera, semplifico, i tre cantoni danno al massimo il 50% di quanto richiesto per la parte progettuale svizzera di contributo pubblico. Ci sono poi alcune eccezioni, ma non è il caso di star qui a specificarle. Il restante 50% deve essere messo obbligatoriamente da parte del percettore di quel contributo pubblico. Cioè gli svizzeri, di fatto, quando partecipano, ricevono il 50% delle loro risorse per fare quel progetto dal livello confederale, dal livello cantonale, e il restante 50% poi ce lo dobbiamo mettere loro. Come vedete, le regole di ingaggio sono un po' diverse. Questo giustifica, evidentemente, anche il fatto che il numero di beneficiari su tutti gli assi e complessivamente, beneficiari svizzeri, sia decisamente riferito rispetto a quello italiano. Per quanto riguarda il nostro asse, cioè l'asse 5, abbiamo 15 partner complessivamente considerati svizzeri e 30 invece per la parte italiana. Come vedete, ci sono dei picchi, sono la suddivisione per province, cantoni e province, non per regioni. E come vedete l'abbiamo suddivisa per i 5 assi e c'è ovviamente un picco per quanto riguarda il Ticino, ma se sono massimo le quattro province lombarde, vedremo che il 63% dei beneficiari e più del 54% dei fondi sono stati destinate a attività, progetti, enti, aziende lombarde, cioè che hanno la loro sede operativa in regione Lombardia. Questo è un quadro finanziario. Come vedete, non vi faccio perdere tempo, vado solo all'ultima riga. L'ultima riga indica il totale di tutti i 5 gli assi. Come vedete noi abbiamo 69 progetti. Sull'asse 5 abbiamo 15 proposte presentate e 7 approvate, fra cui gestisco. Complessivamente invece abbiamo 170 proposte progettuali presentate, come dicevo, e 69 approvate. Il finanziamento complessivo sull'asse pubblico, sull'asse 5, ammonta per quanto riguarda la parte europea a 7.140.556,55. Il totale invece, per quanto riguarda tutti gli assi di contributo pubblico erogato, ammonta a 77.996.741,87. Qui una specificazione importante, perché la cifra, come vedete, è più alta di quanto messo a bando. Perché? Perché, come deciso dal livello politico, cioè dal comitato di sorveglianza del programma, sono state finanziate anche, sono state utilizzate anche le risorse, il 20% residuo che non è stato messo a bando per quanto riguarda l'asse 1, quello destinato alle imprese, e per quanto riguarda l'asse 2, quello destinato all'attività di valorizzazione dei beni ambientali, naturali, eccetera, eccetera. Questo per venire incontro alla grande domanda che il territorio ha espresso in termini di richieste di finanziamento per fare opere, attività sul territorio. Questa è la parte svizzera. Per l'asse 5, come vedete, la parte svizzera ammonta, contributo pubblico, per i sette progetti che dicevamo prima, ammonta 1.103.000 franchi, e complessivamente la Svizzera ha dato un contributo pubblico di 10.264.459,41 franchi svizzeri per i 69 progetti approvati. Dove siamo? Siamo sull'asse 5. L'asse 5 riguarda essenzialmente la cresciuta collaborazione e il coordinamento fra le amministrazioni pubbliche o comunque i portatori di interesse che stanno a cavallo della frontiera e elaborano delle proposte progettuali per migliorare, fluidificare, snellire, rendere più semplici rapporti, procedure, consultazione e condivisione di banche dati, eccetera, fra i due lati della frontiera, quindi fra Italia e Svizzera. I progetti che abbiamo approvato e finanziato per quanto riguarda l'asse 5, come vedete, ha sostanzialmente, per quanto riguarda la parte svizzera, è una concentrazione quasi inevitabile con il canton Ticino, cioè prevalentemente il partner è il canton Ticino, il partner svizzero. E per la parte Italia si concentrano ovviamente su Varese e su Como, perché evidentemente è una frontiera quella molto frequentata, si può dire, molto usata, che ha la necessità quindi anche di creare degli strumenti, ha la necessità, e ha creato di necessità, mi viene da dire, anche una serie di progetti, di progetti di governance trasfrontaliera. I progetti sono Minplus, Governativa, SICT, STIC, Simile, Gioconda, e ovviamente Gestisco. Quali sono le caratteristiche di Gestisco? Quali sono innanzitutto i partner? Abbiamo ovviamente come capofila, come è abbastanza noto, i miei colleghi di Regione Lombardia, della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile. è capofila di parte Italia, quindi dovrà gestire tutto il budget complessivo, il budget complessivo di parte italiana è 1.433.410,01, di cui 570 vanno direttamente alla Direzione Generale Territorio. 120.000 vanno invece alla Fondazione Politecnico di Milano, poi abbiamo anche una collaborazione con ARPA Piemonte di Torino, che gestirà 226.320 euro per le proprie attività. Abbiamo di nuovo, o meglio, un altro ente collegato sia al Politecnico, ma non è la Fondazione, bensì Politecnico di Milano, la sede di Lecco, che gestirà invece 415.000 euro, e infine abbiamo il Comune di Como per 102.090 euro. Di parte Svizzera abbiamo due partner, abbiamo come capofila il Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni, e poi abbiamo come partner la Scuola Universitale Professionale della Svizzera Italiana di Manno, sempre nel Cantone Ticino. Come vedete complessivamente, a fronte di un budget di 368.000 e rotti franchi svizzeri, abbiamo un contributo pubblico di 184.481,80 franchi svizzeri. Gli obiettivi del progetto ve li spiegheranno naturalmente nel dettaglio, credo, tutta questa giornata, senza, io quindi non vi faccio perdere altro tempo, restano le nostre slide, chiedo non tanto a tutti i partecipanti dell'incontro di oggi, ma lo chiedo soprattutto ai due capofili italiani e svizzero di leggere con grande attenzione come noi abbiamo riassunto e interpretato il progetto. Non perché siamo particolarmente importanti, ma per una ragione molto semplice. Quando dovremo verificare se le spese che voi andate a rendicontare sono più o meno coerenti con quanto avete presentato, noi ci rifacciamo ovviamente a quello che abbiamo capito, ovviamente. E quindi, questo serve anche da parte vostra per tarare il tiro quando farete le vostre attività. Io adesso chiudo ricordando una serie di cose importanti, di appuntamenti, che sono il primo appuntamento, i primi tre appuntamenti importanti, importantissimi, avverranno a breve, avverranno settimana prossima a Bolzano e il giorno 18 e poi il 24 a Milano, a Palazzo Pirelli, a Palazzo Lombardia, faremo tre momenti cosiddetti di kick-off day, di info day, insomma, lanceremo e presenteremo le caratteristiche del secondo bando, del secondo avviso del programma Italia-Svizzera, cioè mettiamo a bando tutte le risorse residue che sono rimaste, quindi non faremo un bando sull'asse 1, sull'asse 2, che sono a zero, perché abbiamo tutte le risorse che le abbiamo date nel primo avviso, ma metteremo a bando l'asse 3, l'asse 4 e l'asse 5, con tutto quello che è rimasto. Voi avete fatto un progetto o siete interessati a un progetto di asse 5, l'asse 5 verrà rimesso a bando con alcune caratteristiche particolari, quelli saranno tre momenti in cui spiegheremo nel dettaglio quello che ci aspettiamo dei territori per poter, come dire, assegnare le ultime risorse che abbiamo a disposizione. Un'altra cosa molto importante che mi preme ricordare è che è questa tabella. Noi abbiamo fatto tutto un percorso lungo, siamo arrivati a provare tanti progetti, abbiamo iniziato a firmare una serie di convenzioni, a staccare un po' di assegni, un po' di anticipi e quant'altro, ma abbiamo anche degli obblighi nei confronti della Commissione Europea. Noi dobbiamo ogni anno, al 31 dicembre di ogni anno, raggiungere dei target finanziari, non solo finanziari, ci sono anche target di performance, ma la cosa più semplice e più immediata da comunicare è il raggiungimento dei target finanziari che sono questi. L'anno scorso l'abbiamo raggiunto, era abbastanza bastino, cioè non era altissimo, era 1.831.000 euro tiero, l'abbiamo raggiunto senza nessun problema. Quest'anno è un po' più complicato, sono 9.315.000 euro. Per arrivare qui vuol dire che voi dovete spendere, rendi contare, c'è qualcuno, cioè i controllori di primo livello che sono indipendenti dall'autorità di gestione che vi controllano le spese, dicono che avete speso bene e dicono all'autorità di certificazione che è un'altra cosa rispetto all'autorità di gestione che ok, possiamo pagare. Sommate queste cose qua, bisogna arrivare a 9.315.000 euro e siamo molto indietro, quindi di nuovo sollecito a mettere, come dire, a mettere il turbo, a inserire il turbo e a lavorare, anche perché, come sapete, se non li spendete poi i soldi vi vengono tolti. Infine, un'ultima cosa che mi preme ricordare è questa pagina, allora, controllate sempre il nostro sito web, diventate amici della nostra pagina Facebook, ma non tanto così perché su quella pagina ci sono tutte le, per esempio, la vostra iniziativa oggi è già stata lanciata e la lanceremo anche con tutti i ritorni che avremo, la stessa cosa facciamo con gli altri 68 progetti, oltre al vostro e soprattutto sulla pagina Facebook e sul sito mettiamo tutte le informazioni utili per poter lavorare e darvi le informazioni necessarie al riguardo. Grazie. Grazie.